Vite Parallele, un progetto di Cascina Macondo, racconti e testimonianze di chi ha varcato la soglia del carcere, con il contributo dell'UBI, in parteneriato con il centro Okuzenko. Media Partners, Corriere di Chieri, Fita, Italia che cambia, narrabbilando Blogspot, Piemonte Mese. Se sei una radio o una testata giornalistica, puoi ancora aderire al progetto per diffondere le testimonianze pervenute. Testimonianza di Emilio Toscani, detenuto. Lo sgabello. Legge Florian Lan. Ciao, sono uno sgabello di legno, come quello che ogni detenuto ha in dotazione nelle carceri. Adesso sono un pezzo di legno morto, ma una volta facevo parte di un bellissimo larice. Ero il terzo ramo a destra, partendo dal basso. Poi, all'improvviso, un fulmine ha bruciato il mio larice e lo scheletro annerito è stato portato in segheria. Così sono diventato sgabello. Sapeste quanti dei miei compagni si sono seduti su di me? Ho visto gente ridere, piangere, vivere sopra di me. Tutti i sentimenti e i pensieri possibili e immaginabili dell'umanità si sono seduti sopra di me. Ne avrei cose da raccontare. Sono stato coinvolto anche in un paio di risse, usato come arma, riportando anche lievi ferite. Se sapeste di quanti segreti, frammenti di vita, confessioni, gioie e dolori sono stato testimone. Poi, a febbraio, a Civitavecchia, il dramma. Ero in una cella appartenuta a un povero vecchio finito in galera per resistenza pubblico ufficiale, avendo un pochino alzato il gomito per dimenticare i suoi dolori. Un giorno gli portarono in cella un indiano mezzo matto. Il vecchio avvertì le guardie che era pericoloso stare con un matto, ma non ottenne alcuna reazione. Di notte, senza motivo, l'indiano mi brandì, mi fece volteggiare nell'aria e mi calò sull'inerme testa del vecchio. Non solo una volta, ma insistette a più riprese. Poco dopo, il vecchio era morto e io ero aperto in due, in frammenti inservibili. Adesso sono nella raccolta differenziata e verrò presto bruciato. Certo che ero proprio un bell'arice. Avete ascoltato Chi ha varcato la soglia. Testimonianza di Emilio Toscani. A letto Florian Lan. Per informazioni info-cascinamacondo.com